Allora, siamo tornati qua agli amici dei magazzini La Casona, offerta sempre buona. Vieni qua, allarga un po', fai vedere, non c'è niente, adesso aspetta, aspetta, perché abbiamo dei prodotti validi da morire stasera. Allora, cominciamo col primo, cominciamo col primo perché siete lì che pendete da me, lo so, perché io vi do sempre i prodotti migliori qua, i magazzini La Casona, allora via, cominciamo col primo, un bel lettore cd, allora, guarda un po'. Senti come leggi, questa è la canonata, va che è una meraviglia, ed è il primo prodottino che vi metto lì, e questo è uno, ma non l'ho finito, via col secondo, una bella vibratrice, fai vedere, stai giù, allora, l'ho già detto, quelli che mi seguono lo sanno che io non vendo delle bufalate, allora, questa qui, tutta rivestita in pelle, e lo sapete, abbiamo tre velocità, una, due, e tre, ecco qua, e poi, come funziona? L'ho già fatto vedere come funziona, è un'accamolata, guarda, basta mettersi giù così, oh, ecco, vedi? Ed è una meraviglia, ma io non ho finito, aspettate, fai vedere bene qua, allarga, allarga che non vede la gente, allora, allora, qui, non hai finito, tiri su, e via che ne assolde i glutei, oh, guarda, guarda che roba bella, allora, poi, abbiamo l'elettrostimolatore, fai vedere, tira su, tira su, l'elettrostimolatore, dai, no, questo qui, il ditino, dai, oh, ecco, così, guarda, guarda che brava, eh, allora, poi, il giro vite, dai, via, fai vedere che qua, oh, ecco, vedi, questo, questo, questo ne l'ha venduti una quintalata, stia, va via che è una meraviglia, allora, ed è il secondo, poi, cosa vi do ancora, cosa vi do ancora, per la stessa cifra, amici dei magazzini della casona, vi do anche questo bellissimo umidificatore, guardate, che non funziona, che non funziona, questo se funziona, e poi con l'umidificatore, per la stessa cifra anche il deumidificatore, e via, così, e portate via, allora, ma cosa vi devo dare voi, io, allora, allora, aspetta, aspetta, v'ho dato il lettore cd, ve l'ho dato, v'ho dato l'animatrice, l'umidificatore, l'umidificatore, che vanno, che pelano, e adesso vi do anche questo bellissimo condizionatore, guarda qua, vieni, vieni domani sera, no, non vengo, no, guarda che devi venire, non ho voglia, vieni assolutamente, è bellissimo, vieni domani sera, va bene, vengo, vai, va, ha convinto che me, ha convinto, allora, ragazzi, cosa volete, cosa vi devo dare, cosa c'è, allora, qua, ecco, ecco, qui, la novità, la novità, di quest'oggi, allora, vi do anche, vi do anche per la stessa cifra, vi do anche questo lettore cd portatile, con la cuffia, con la cuffia vi do anche, allora, cosa vi devo dare ancora, aspetta, aspetta che non l'ho finita, allora, vi ho detto che vi do tutta sta roba, per la stessa cifra, signori, io questa sera, mi rovino, veramente, vi do ancora una volta a questo bellissimo altoparlante, che va anche lui, che mi fai sentire, dai, vi divertite ragazzi, tutto bene? Allora, con l'altoparlante anche l'amplificatore, guarda, vi divertite ragazzi? Vi divertite ragazzi? Ecco, allora, amplificatore, come stai? Bene, 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 funzionano, funzionano, è via, e li mettiamo lì, allora, adesso, signori, io, dopo tutto, allora, è questo, è questa, è la stessa cifra, cosa volete ancora, vi do qualcosa altro, allora, vi do anche questo bellissimo acquario, questo bellissimo acquario, guardate qua, allora, qui, l'acqua, l'acqua entra, allora, l'acquario innanzitutto, 10 febbraio, 10 febbraio, e siamo sicuri, poi, abbiamo che l'acqua entra da qui, e sia da qua, e dietro i pesci, allora, allora, adesso, cosa volete ancora, signori, io, io non so più cosa dare, vi devo dare ancora qualcos'altro, vi do cosa, ecco, allora, vi ho detto che vi do il lettore CD, con la cuffia e tutto, poi la vibratrice, e poi dopo vi ho detto che vi do, ecco, gli altoparlanti, e vi do anche, con l'amplificatore, anche la spia, dai, è stato lui, è stato lui, è stato lui, anche la spia, dai, via, anche la spia, ragazzi, cosa vi devo dare ancora, allora, io, a larga, fai vedere, a larga, a larga, fai vedere tutto qui, signori, io, non lo so, cosa vi devo dare ancora, io, io, ma io sono rovinato, io, a questo punto, a questo punto, signori, io non so più cosa dare, più oltre tutto quello che volete, con l'umidificatore, l'umidificatore, la vibratrice, le due CD, ecco, qua, abbiamo anche il condizionatore, vengo, 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 funziona, signori, cosa vi devo dare ancora, io, questa sera, agli amici, proprio veri, dei magazzini, la casona, io voglio dare, guarda, io, mi voglio rovinare, guarda, io, questa sera, ai primi dieci, che chiamano, do anche il culo, guarda, ai primi venti, va, via, vai, vai, bossè, bossè, vai. Grazie. Grazie. Grazie.